io non mi dico più di scatto questo una volta che l'ho preso ecco qua nel numero di testiera del 29 stiamo a Porto un'intensità di un seito e lo vanno a provare a prenderla di niente da Grigio insomma è proprio amaro l'avevo fatto il primo là sopra questo materiale che prima l'ho pressato con lui, con il voce ce l'ha salvato cittina che non faceva tanta polvere cittina che non compattava poi si è venuto in marmo poi la città l'acqua se ne va l'acqua se ne va filassata guardati il cerchio bravissima bravissima in questo campo si in questo campo si può entrare un tipo su che basta di sciogare anche su e può entrare perché su è una sponda l'ho fatto un poco l'acqua guarda il centro guarda il centro piatta palle palle brava uno bravissimo aspetta un po' avanti vai fermati riparti vai 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 ok spostalo un po' Miriam ancora ancora ok bravissima stai ferma con le gambe ok respira vai 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 uno bravo avanti avanti ok brava staccatelo un pochettino guarda dove devi andare vai avanti avanti guarda e gira piano così aspetta vai in fondo vai in fondo ora brava guarda vai bravissima vai avanti 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 aspettala vai avanti 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 ora per brava bravissima ferma lì brava Miriam brava 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 Miriam che è da dare un valore di 64 e mezzo